Maria Laura Orru, consigliere regionale, anche egli eletta nella fila dei progressisti, oggi qui a Cagliari, per sentire la voce degli insegnanti e degli studenti. A scuola si deve tornare, ma con quale edilizia scolastica? Allora, noi abbiamo una grande occasione e una serie di risorse che ci si metteranno in campo ed è opportuno ed essenziale investirle per una scuola che sia migliore anche dal punto di vista dell'edilizia. Noi pensiamo questo, non si può assolutamente non fare un ragionamento che sia un ragionamento complessivo ma lavorare per piccoli compartimenti stagni perché oggi ripensare l'edilizia scolastica, la scuola in tutto il suo insieme significa dare un futuro migliore a quelle generazioni che sicuramente saranno coloro che devono portare avanti una società che non sia una società che va verso un individualismo spinto ma sia una società che si riappropria di tutte quelle che sono le competenze, le volontà e anche il miglioramento di una società che negli ultimi anni abbiamo visto che stava decadendo.